Ciao, come state? Io per quel che mi riguarda credo proprio che la notte appena trascorsa sia stata la più fredda in assoluto dall'inizio dell'inverno. Tanto che non riuscivo a prendere sonno, mi sono alzata dal letto anche messo due piumoni. E adesso cerco la mia maglietta, quella di pelliccia bianca, nell'armadio quassù, perché è arrivato il momento. Ciao, ciao. Me la sto trovando. È incredibile quante cose escano dagli armadi. Ho trovato le scarpe che mi ha raggiunto il mio amico di Milano che non ho ancora indossato. Allora le metto lì. Poi... Vediamo qua. Credo proprio che sia questa. Trovata! L'ho trovata. Questa. Che meraviglia. Questa fa caldissimo. È meravigliosa questa maglietta. E ora ripongo tutto il mio caos che ho fatto. Poi scendo giù preparo una tisana con il miele. E mi raccomando anche voi. Prendete tanta vitamina C. Copritevi bene. E ci vediamo alla prossima. Mi raccomando ragazzi. Prendete tanta vitamina C. Copritevi bene. E ci vediamo prestissimo. Prestissimo.